Ciao Gigi, mi diresti due aggettivi per descrivere la soluzione datacenter di Alcatel Lusent Enterprise? Ciao Marti, volentieri. Io direi innovativa e vantaggiosa. Adesso ti dico anche perché. Innovativa perché è flessibile grazie a un'architettura che supporta le tecnologie di virtualizzazione con bassa latenza end-to-end. È ecosostenibile, ti faccio anche un esempio. La soluzione Alcatel Lusent consuma fino al 70% in meno rispetto alla concorrenza e è attenta all'evoluzione di questo mercato attraverso delle partnership con aziende leader nell'ecosistema datacenter. E perché è vantaggiosa? Vantaggiosa perché salvaguardia gli investimenti dei nostri clienti. È aperta, è basata su standard di mercato e quindi interoperabile con soluzioni di altri vendor. È agnostica rispetto alle differenze tecnologie di virtualizzazione che sono presenti nei datacenter. E un ulteriore vantaggio è ovviamente la suite di gestione che fornisce visibilità end-to-end delle componenti infrastrutturali in modo unificato attraverso strumenti di monitoraggio e di provisioning. Adesso mi racconti quali sono le novità Alcatel Lusent Enterprise in ambito datacenter? Buon entieri. Una delle novità che abbiamo all'interno del nostro portafoglio è la disponibilità delle interfacce 40 gigabit Ethernet che sono disponibili su OmniSwitch 6009 e su OmniSwitch 10K. In aggiunta nuovi standard datacenter bridging che sono particolarmente adatti al supporto dei protocolli di storage quali IceCasi e Faber Channel over Ethernet. Abbiamo poi l'integrazione con le componenti della tecnologia Citrix e per ultimo l'estendibilità della fabbrica a livello geografico attraverso un protocollo che è appena stato ratificato che si chiama Shortest Path Bridging e che è quindi un ulteriore passo verso il cloud. Grazie!